che è questa. A noi piacciono molto Draghi e Mattarella. Draghi e Mattarella non sono persone giovani, non sono persone ai tanti, hanno una grande gravitas, danno senso di esperienza, solennità. Non li trovo ai tanti entrambi. No, no, ai tanti, nel senso che non corrono 10 maratoni. Quello che danno è il senso della solennità di dove sono. E ci piacciono tantissimo. Hanno avuto un'educazione molto severa, poi ne parleremo fra un attimo. E poi votano esattamente il contrario. Allora io vorrei solo capire, e vedere se è possibile, cercare di costruire un campo, per usare l'espressione diletta, che è un campo che ha al centro la cultura del governo. Che non è che non è un'aspirazione ideale, ma che sa che l'aspirazione ideale deve convivere con la capacità di tradurla in pratica. E quindi anche sapere che il governo è un compromesso, una scelta, non tutti vincono. Ma siete in tanti a preparare questo lavoro di federazione? Ma io non l'avevo. Lo state facendo, lei lo sta facendo, diciamo, da tempo, e a Roma ha ottenuto un gran risultato. Però, insomma, si stanno muovendo Toti, si sta muovendo Renzi. Ma non è la stessa cosa. No, perché vede, una cosa è il centrismo. Il centrismo in Italia ha un significato. Il centrismo è il luogo della tattica, no? Dove ci sono partiti relativamente piccoli o grandi, lasciamo perdere questa cosa. Ma che comunque vogliono essere l'ago della bilancia. E invece voi volete governare? No, noi vogliamo fare in modo che non succeda quello che vi raccontavo prima dietro le quinte, che vengono tutti i leader da azione, dicono, cavolo, ma come stiamo governando bene insieme. Ma questa cosa funziona, la responsabilità, le cose. Poi dicono, oh, alla fine del discorso, però alle elezioni tutti separati, eh? Destra contro sinistra. Quindi, potremmo dire in grande sintesi per un eventuale spettatore austriaco che loro vogliono fare tattica e voi volete governare? Sì, io penso che la politica, che etimologicamente vuol dire arte di governo, parte dalle idee che hai, ma deve avere, quello che manca in Italia, il radicamento nel sono capace di farle accadere. Sì. E questa è la cultura di governo. Tutti vogliono governare alla fine, però c'è qualcuno, per esempio, Renzi spesso dice io voglio fare politica, no? Non mi interessano le poltrone, anche se resto fuori, però quello che mi interessa è determinare le strategie. Cioè la famosa utilità marginale, vabbè, insomma, ci siamo capiti. Ma io posso chiedere una cosa, ma perché una persona che, diciamo, ha una professione fuori dalla politica dovrebbe appassionarsi l'idea di fare politica in quel modo là? Beh, perché la tradizione italiana è questa, la politica in Italia... è una degenerazione, è il macchiavellismo, l'idea che la politica non è o un'idea... Machiavelli però è roba nostra. No, no, Machiavelli è roba nostra in un'epoca in cui la forza, però, era l'unica determinante. E noi non possiamo sempre... Io sono un grande veneratore del passato, ma non lo possiamo sempre richiamare a sproposito. Allora... La politica oggi è idee, prendi il consenso sul territorio, lo traduci in azione di governo. Sì, ho visto che Giorgetti è già in...